Raimundo torna a Puente e Viejo e viene a scoprire di avere un nipote, per cui è molto felice, inoltre scopre che Emilia e Alfonso si stanno occupando di un bambino trovato vicino al fiume, non essendo favorevole, cerca di convincere Genero e figlia a denunciare l'accaduto alla guardia civile. Francisca sta lottando contro sentimenti contrastanti visto che da una parte odia padre Gonzalo, ma dall'altro lei teneva molto al piccolo Martin. Rita e Isidro decidono di dire ad Enebal di essere innamorati l'uno dell'altro, ma quando arrivano a casa lì aspetta una brutta sorpresa. Dopo aver analizzato una serie di eventi ed atteggiamenti, Francisca si rende conto che con lei che si fa chiamare Carmene in realtà la vera Aurora è che l'altra è solo un'imbrogliona. La cosa, tuttavia, non sembra disturbarla più di tanto in quanto pare che voglia prendere un accordo con con lei che si spaccia per sua nipote. Iacinta spiega a Francisca come e perché ha usurpato l'identità della vera Aurora, le due si mettono d'accordo per un patto di collaborazione. La vera Aurora e Candela si consolano per il fatto di non avere clienti e cercano il modo di smascherare la falsa Aurora. Rosario incontra per la prima volta l'aiutante di Candela e rimane quasi senza parole. Tristan, per la prima volta, difende Rosario davanti a quella che crede sua figlia. L'emorragia di Anibale è sotto controllo, ma la paura della maledizione spaventa i buendia.